per l'uno di davy lady karim berri alla guida e al training il 2 diana del cerceo roberto muscolini il 3 miss gb romolo sani il 4 davidia bright e dario battistini ancora per karim berri il 5 dangerous uvs marcello di nicola per nicola mero del 6 dark lady cav antonio di nardo per gennaro casillo e il 7 dell'indalubi davide angeletti questo è il campo delle partenti quando mancano ormai 150 metri allo stacco della macchina nel lancio c'è lotta tra diana del cerceo davidia bright e più in fuori dark lady cav davidia bright scavalca diana del cerceo prontamente inseguita dalla favorita dark lady cav mentre ha problemi e sbaglia in curva dangerous uvs sbaglia in curva anche dell'indalubi quarta posizione per miss gb mentre dark lady cav ottiene il via libera da davidia bright senza spesa non c'è stato strappo per la favorita 29 8 il quarto iniziale quindi è passata senza dover spingere sull'acceleratore antonio di nardo con la figlia di napoleon che ora transita ai 600 iniziali in un comodissimo 46 e 8 parziale di tutto riposo davanti alle tribune nell'ordine del 16 e 9 addirittura continua a graduare dark lady cav ha approfittato dell'indalubi che dopo l'errore in curva risale all'esterno metà gara in 1 e 3 scarso per dark lady cav e dell'indalubi poi davidia bright ha recuperato anche dangerous uvs che prende la scia di dell'indalubi ora c'è una frazione più sollecita in 14 e 4 con la quale dark lady cav replica a dell'indalubi poi dangerous uvs che sopravanza chiaramente davidia bright sposta dalla corda diana del circeo terza ruota di dangerous uvs quando siamo i 300 finali dark lady cav si svincola da dell'indalubi dark lady cav in vantaggio dell'indalubi che però si ripropone con grinta più all'esterno d'angelo soft poi diana del circeo senza spazio è in difficoltà dark lady cav cerca di tenerla però bene in mano toglie nardo ma finisce con lo sbagliare aveva chiari problemi e allora vince con percorso direi strepitoso dell'indalubi che aveva sbagliato imboccando la prima curva risalita a largo e poi è passata in retta sulle evidenti difficoltà di andatura della netta favorita dark lady cav 2 2 e 6 sul mio cronometro per la vittoria in 1 16 e 6 di dell'indalubi davide angeletti colori di federico stecca per la figlia di nadal sheba che vedete va all'attacco di dark lady cav che prima perde brillantezza poi non è perfetta di meccanica antonio di nardo cerca di non muovere le mani ma arriva l'errore di dark lady cav e allora la facile affermazione di dell'indalubi con il numero 7 vediamo poi anche le altre al secondo posto dovrebbe essere il 2 di diana del cerceo dell'indalubi che vince diana del cerceo col 2 al posto d'onore e al terzo il 3 di miss jib 723 l'arrivo ufficioso della terza di capanelle grazie 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 grazie